Conoscere la morte a 15 anni, confrontarsi con un dolore che non si immaginava di poter provare, o almeno non così presto. Giorgia ha lasciato un vuoto, accettarlo sarà difficile e comprenderlo forse impossibile, specie a 15 anni. Questo un genitore lo sa, come sa che proprio a lui spetterà il compito di accogliere le tante domande di una figlia adolescente e di consolarla per la perdita di un'amica. Giorgia non è più tra noi, questo mia figlia lo sa, sono le parole di un padre affranto che ha deciso di scrivere una lettera alla piccola Giorgia in nome dell'amicizia che la legava a sua figlia. Erano amiche, compagne di classe, confidenti, un solo cuore, come amano dire le ragazze a quell'età. Vita, speranza, gioia, felicità, con queste parole il padre descrive l'amicizia di sua figlia e di Giorgia, un vuoto che sarà difficile da colmare. Tra le righe la preoccupazione di un padre e quel sentimento di inadeguatezza e di paura, paura di non riuscire a dare la giusta consolazione a una figlia che soffre. Nella lettera tutta la disperazione dell'uomo che la considerava come un'altra figlia. Impossibile da accettare, scrive ancora, per unità così delicata. Ma la vita insegna anche questo, a soffrire e a renderci più duri verso quanto deve ancora accadere, riflette il papà. Fiducioso che un giorno il dolore di sua figlia sarà più lieve perché, scrive, Giorgia non potrà mai scomparire nei cuori e nelle menti di quanti l'hanno amata perché, come ho detto a mia figlia, lasciava il segno per il suo modo di essere. So che la ricorderà anche un domani da donna, conclude il papà, quando sarà mamma, perché le mie cizie del cuore non si dimenticano.